Tra poche settimane si tornerà alle urne a Miglianico per l'elezione della nuova amministrazione comunale che succederà a quella uscente guidata per due mandati dal sindaco De Marco. Tra i movimenti che più si stanno muovendo in questo periodo, annoveriamo sicuramente Miglianico Cambia con il candidato sindaco Fabio Adezio che abbiamo intervistato un po' di tempo fa. Siamo tornati da lui perché volevamo sapere un po' come stanno andando le cose. Se lui ci aveva detto che c'erano stati degli incontri in questi cinque anni di preparazione, che cosa avete fatto? Dunque a dicembre vi abbiamo promesso delle cose, vi abbiamo promesso sostanzialmente tre cose di informarvi, di formarvi e di ufficializzare una lista. Lo abbiamo fatto, in questi mesi abbiamo incontrato praticamente tutta la cittadinanza e vi abbiamo reso partecipi di tutte le informazioni che siamo riusciti a carpire, ad intercettare dell'attuale amministrazione comunale. Lo continueremo a fare sempre con maggiore chiarezza e incisività. Poi vi abbiamo promesso di formarvi e al nostro interno abbiamo creato una offerta formativa che ha già avuto all'attivo 120 persone formate e stanno partendo altri corsi. I corsi hanno avuto un grandissimo successo, ci avete chiesto di continuare a farli, noi lo faremo e non lo faremo solamente nei prossimi due mesi ma lo continueremo a fare. I nostri corsi di alfabetizzazione informatica, di scrittura creativa, di fotografia, di educazione all'alimentazione e tutte le altre cose che ci avete chiesto noi le continueremo a fare. In ultimo vi abbiamo promesso che avremmo costituito una lista elettorale per la prossima competizione, l'abbiamo fatto, da pochi giorni abbiamo ufficializzato il candidato sindaco che sono io e abbiamo anche ultimato la lista, la terremo riservata per qualche altro giorno e poi la pubblicheremo, come sempre facciamo, sui nostri canali ufficiali, ovvero sia sul nostro sito www.miglianicocambia.it e sul nostro profilo Facebook.